Ciao Prisciolino! Ma oggi non è venerdì? Prisciolino... Non so dove possa essere, ma sono sicura che se avesse problemi mi chiamerebbe. Sa, questo non è posto per lei. Lei ha un animo nobile. Lei vuole una vita migliore. Scusa, Aglia. Vabbè che c'entra. Sei io che lei non abbiamo mai badato l'aspetto fisico. Però Maria ama Franco. Vogliono avere un figlio e vivere felice lontano da qui. Magari a questo là saranno già partiti? Il Fosai è già arrivato. La tua amica rischia grosso. Dobbiamo trovarla assolutamente noi prima che lo faccia qualcun altro. Qui c'è il mio numero per qualunque cosa chiama. C'è già il mio numero, vero?